Il referendum può essere partecipato, abbiamo l'ambizione, sostenendo il comitato, noi non abbiamo promosso il referendum, il referendum è stato promosso da dei cittadini, noi li sosteniamo, li appoggiamo in tutto, perché condividiamo anche i contenuti del comitato promotore, perché l'ambizione è raccogliere 38 mila firme, perché 2 mila firme sono state già raccolte per poter presentare la domanda nell'ambito del collegio di garanzia, e abbiamo l'ambizione di raccogliere 38 mila firme di qui al 31 di ottobre, per questo ogni rallentamento ci preoccupa un po'. Perché entro il 31 di ottobre? Perché se ci si fa entro il 31 di ottobre si riesce a fare questo referendum entro il 2016, altrimenti si va al 2017, a legge ormai consolidata, diventa un pochino più complicato. Chiaramente ha un grosso significato politico questo referendum, al momento si è raccolto già più di 10 mila firme, nonostante questi rallentamenti, ma si è cominciato verso il 10-13 settembre, quindi in 20 giorni, quindi in realtà i cittadini stanno venendo, firmano, hanno chiaro una cosa fondamentale, che in questa regione, dietro un pochino alle politiche nazionali di Renzi, si sta smantellando il servizio sanitario pubblico. Questo è quello che è chiaro, questa legge va a coronare questo disegno, perché è una legge che va a tagliare semplicemente i posti di lavoro e la linea d'assistenza. L'assistenza sanitaria risulta penalizzata in una maniera straordinaria, con chiusura di reparti, con servizi sempre più accentrati e quindi più lontani dai cittadini, non affronta quelli che secondo me sono i cinque grossi problemi della sanità sentiti dai cittadini. Si prova a fare un elenco? Prego. Liste d'attesa, è impensabile riducendo il personale che migliorino i tempi d'attesa per una visita specialistica oppure un esame diagnostico, è una delle cose più odiose, perché spinge cittadini ad andare per forza a trovare una soluzione sul privato, privato che viene sempre di più incoraggiato e a volte con una truffa semantica hanno il coraggio di chiamarlo volontariato, perché fanno diventare profit le situazioni non profit per consentirgli di fare la diagnostica privatamente. Quindi, liste d'attesa che non vengono risolti. I ticket, i ticket sono una cosa odiosissima, perché con i ticket che stiamo pagando il privato entra in competizione con il pubblico, è una cosa assolutamente incredibile, perché fra poco conviene andare sul privato, non conviene rimanere sul pubblico, perché fra ticket sulla visita specialista, il super ticket della digitalizzazione è una follia. Cioè, un dischetto che costa 60 centesimi ci fanno pagare per tre volte nell'anno 10 euro di ticket. Anche questo non viene risolto. Un altro punto critico, importante, sono i pronto soccorsi che sono sempre più ingolfati. Arrivi al pronto soccorso, ci passi 5, 6, 7, 8 ore, una notte intera. Con questo sistema, che è un sistema di spending review, di tagli continui alla sanità, non si risolvono questi problemi, anzi si aggraveranno ulteriormente, con un incoraggiamento a risolvere queste questioni sul privato. Non ho detto i tre soli, però... Poi gli altri due ce li teniamo dopo, sì.